Ragazzi fa veramente troppo caldo, io mi sto sciogliendo, se mangiassemo un gelato Io mi vorrei veramente fare una macedonia di frutta, magari ghiacciata Regina, ci porteresti qualcosa di fresco? È impossibile studiare Ragazzi, ho io la cosa giusta per questo caldo La fresco! Ma scherzi? Nacone, non conoscete la nuova vita dell'estate? La fresco! Un capolavoro della natura Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!